Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo per ragazze a partire dai 12 anni di età, che offre una storia divertente e accattivante, focalizzandosi sul tema dell'amore adolescenziale e sull'importanza di essere se stessi. La trama del libro Tutte le regole dell'amore della scrittrice Moine Kew, casa editrice Mondadori, è la seguente. Desilì ha 17 anni e non ha mai avuto un ragazzo. Studentessa modello, fa parte di svariati club ed è anche una stella del calcio, in generale nella vita eccelle in tutto ciò a cui decide di dedicarsi, tranne quando c'è di mezzo una cotta. Ogni flirt si rivela inevitabilmente un flop, persino i suoi inseparabili amici Wes e Fiona non capiscono come ciò sia possibile. Ma ad essi non interessa molto innamorarsi, almeno finché a scuola non arriva Luca Dracos. Artista ribelle, fuori dagli schemi, fa subito breccia nel cuore di Desi, che è pronta a tutto pur di conquistarlo. Per mettersi all'opera però ha bisogno di un piano. Lo spunto arriva dai K-drama, le serie tv coreane che suo padre guarda da una vita, dove la sventurata protagonista, tra mille peripezie, finisce sempre tra le braccia dell'amato. Facile, no? Basterà studiare la trama e seguire lo schema, e Desi è bravissima in questo. Peccato che l'amore, nella vita vera, non è proprio come quello dei K-drama. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video, e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.